Si chiama Doxuri ed è un tifone che ha colpito letteralmente la Cina. Spassata via, le acque hanno sommerso per la parra del Fuhan, una situazione ingessibile, quella che riguarda la Cina, colpita da questo potente cilone, estrada alla gara dell'auto sommersa dall'acqua, una situazione ad alto rischio emergenziale, vacanze di acqua potabile, rami caduti, scartellonistica diverta, una condizione terribile, 179 mm di acqua che ci sono stati, la capitale in una condizione devastata, la potenza del tifone è stata fortissima, la tempesta ha coinvolto anche, soprattutto la parte nord della Cina, la parte settentrionale, secondo diversi tempamenti, sembra proprio che le persone coinvolte da questa tempesta abbiano, diciamo così, riportato anche danni seri, la zona o meno ambiente del Fuhan è letteralmente colpito, è stato interessato, è interessato a questo fenomeno devastante, da cui questo tifone ha creato il panico, la paura e ingenti danni, ingentissimi danni. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi dentro di Youtube, iscrivetevi, commentatevi, ciao!